Se ci fosse stato Nichols, forse la gara contro la Reier-Venezia sarebbe stata più equilibrata, ma i Veneti hanno dimostrato di avere qualcosa in più rispetto agli Irpini e soprattutto sono da considerare l'unica e vera antagonista di Milano. La squadra di De Raffaele ha ben 13 giocatori e ogni domenica c'è un turnover. La Sidigas a roster ha 11 elementi, il dodicesimo il giovane Sabatino, ma tra gli undici senior compaiono Spizzichini, che non ha mai giocato in A. Campani, reduce da tanti problemi fisici, è poco utile ad alto livello, mentre Luca Campogrande è ingiudicabile non avendolo mai visto a causa di un lungo infortunio. Avellino non ha dunque un roster competitivo, perché gli italiani sono poco affidabili e perché gli infortuni hanno inficiato il rendimento della squadra di coach Vucinic. Ora Nicola Alberani non esita e lavora per rinforzare il roster. Se sino a questo momento il DS e l'allenatore sono stati, per così dire, aziendalisti, adesso è il momento di agire. Il problema di base di quest'anno e anche degli anni scorsi è capire quali siano gli obiettivi di questa squadra. Competere le golle grandi o essere eterni incompiuti? Nel frattempo Avellino cercherà di mettere nel roster un 3-4 ed è stato sondato Hoyer Seelins. E si guarda anche a qualche elemento in uscita da Cantù, tra tutti c'è il lungo Udano, ad esempio. Tra i lunghi è stato offerto anche Trevor Rombaque, giocatore che spesso e volentieri è stato accostato alla Sidigas e che si è liberato di recente dall'Undwisburg. I tifosi sognano anche nomi importanti, Rakim Sanders, che però è un altro tipo di giocatore. Ma la Sidigas in questo momento deve pensare a mettere nel roster uomini e non figurine. Grazie a tutti.